2020 hanno da dimenticare mentre i primi turisti si affacciano su lago e montagne la provincia di Lecco rende noti i dati relativi alla stagione trascorsa difficile sorridere nel nostro territorio la pandemia ha fatto registrare un contraccolpo senza precedenti per il settore dell'accoglienza gli arrivi vale a dire il numero di clienti italiani stranieri ospitati negli esercizi ricettivi sono calati del 61,8 per cento rispetto al 2019 flessione del 50,9 per cento invece per le presenze ovvero il numero di notte trascorse dai turisti sul nostro territorio un quadro a tinte fosche dal quale però si può sempre trarre qualche segnale di incoraggiamento anche per la stagione alle porte innanzitutto la tenuta dei turisti italiani che rispetto al 2019 hanno prolungato la loro permanenza gli alberi evidenziano pesanti ricadute la particolare situazione di incertezza oltre al timore di condividere spazi comuni non ha favorito queste forme di accoglienza e diverse strutture sono rimaste chiuse al contrario le strutture complementari nel quali rientrano campeggi e alloggi gestiti in forma imprenditoriale sono state preferite dai turisti registrando un calo percentuale più contenuto e in virtù di soggiorni più lunghi restituiscono addirittura un valore assoluto positivo con le presenze italiane che crescono del quasi il 25 per cento osserviamo negli ultimi mesi l'apertura di nuove strutture ricettive prevalentemente case e appartamenti per vacanze sottolinea Irene Alfaroli consigliere provinciale delegato al turismo inoltre il rallentamento dell'attività verificatosi nello scorso anno ha favorito la riqualificazione di diverse strutture esistenti soprattutto alberghiere che significa ampliamento dei servizi e innalzamento degli standard qualitativi